Una nuova ambulanza a servizio del distretto di Mirandola con un primato speciale. È la prima allestita con barella elettrica in tutta la provincia e può trasportare fine a 300 chili togliendo la fatica degli spostamenti agli operatori sanitari. Il mezzo è arrivato oggi al Santa Maria Bianca ed è stato acquisito attingendo al fondo di un milione e mezzo di euro messo a disposizione dalla sanità locale dalle fondazioni di Modena, Carpi, Vignola e Mirandola. La dotazione interna dell'ambulanza è stata curata dall'azienda Usul di Modena tramite il servizio di ingegneria clinica che ha individuato nella barella elettrica il nuovo standard da applicare da ora in avanti a tutte le nuove ambulanze che saranno inserite nel parco mezzi del 118. Funzionalità della barella elettrica consentono di agevolare il lavoro degli operatori del soccorso, soprattutto nelle operazioni di movimentazione del paziente. Attraverso il meccanismo elettroidraulico la barella può sollevare in modo semplice e automatico il carico, anche di grande portata, fino a 300 chili, a fronte di un'importante maneggevolezza e facilità d'uso, in totale sicurezza per paziente e operatori. La barella elettrica inoltre è compatibile con l'installazione delle camere di biocontenimento per il trasporto di pazienti con patologie infettive.